Come far fronte alle minacce e alle tragedie della guerra ai confini dell'Europa? È il primo dei temi affrontati nel 29esimo ciclo di seminari organizzato dalla Consulta Regionale Europea a Bardonecchia da giovedì 23 a domenica 26 aprile. Gli incontri sono realizzati in collaborazione con il Movimento Federalista Europeo e il Centro Studi sul Federalismo.